Su Cristo, Vergine Maria, Spirito Santo, Dio, per ricevere grazie e miracoli. Iniziamo con alcune preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Iniziamo con i cento grazie. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Diosi. Grazie Giù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Cento grazie a Gesù Cristo. Vergine Maria. Spirito Santo. Dio. Per ricevere grazie e miracoli. Iniziamo con alcune preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Nei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e tutto è creato, e rinnovi la faccia della terra. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene, e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Iniziamo con i cento grazi. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Vergine Maria. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cento grazie a Gesù Cristo, Vergine Maria, Spirito Santo, Dio, per ricevere grazie e miracoli. Iniziamo con alcune preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Viene, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito, e tutto è creato, e rinnovi la faccia della terra. O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori, con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi, di avere nello stesso Spirito, il gusto del bene, e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Iniziamo con i cento grazie. Grazie Gesù Cristo, grazie Vergine Maria, grazie Spirito Santo, grazie Dio. Grazie Gesù Cristo, grazie Vergine Maria, grazie Spirito Santo, grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie Gesù Cristo. Grazie Gesù Cristo. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo. Grazie Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.